Musica Ditta specializzata, tecnici e amministratori sul posto, nuove prove di carico per il ponte San Nicola di Benevento, attesa per l'esito. Nel Beneventano il 35% dei commercianti paga il pizzo, dati dell'associazione antiracchetta Lilacco, che lancia una nuova campagna di sensibilizzazione. Bus con bimbi in gita a Benevento bloccato da Polstrada, l'autista aveva il tasso alcolemico superiore alla norma. Scongiurato il predissesto per il comune di Faicchio, sindaco soddisfatto della decisione della Corte dei Conti. Spiagge sicure in campagna arrivano fondi a 14 comuni, Salvini, contrasto all'abusivismo a tutela dei commercianti onesti. Nuova edizione del Medianews ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Ponte San Nicola di Benevento chiude per altri test, prove di carico per verificare la resistenza. Sul posto tecnici una ditta specializzata e amministratori. Vediamo. Il principio è del tutto simile a quello delle prove di carico sui solai o impalcati civili. Cambiano però sia le metodologie che le combinazioni e l'entità dei carichi in gioco. Per le verifiche di ponti e viadotti il carico è applicato mediante il transito e lo stazionamento di mezzi pesanti, il cui peso reale è certificato da pesatura elettronica. Sta avvenendo tutto questo a Benevento, sul ponte San Nicola, una verifica della durata di circa 11 ore con la riapertura fissata nel pomeriggio. Sul posto i vigili urbani per veicolare il traffico verso una zona alternativa, una ditta privata di Benevento insieme ai tecnici dell'università. Sul posto per assistere ai test di carico anche il primo cittadino Clemente Mastella che si dice molto preoccupato per la stabilità di questa infrastruttura dopo il crollo del ponte di Genova dello scorso mese di agosto. L'assessore Antonio Reale è la docente di ingegneria dell'Università del Sagno, Maria Rosaria Pecce. Praticamente l'opera dell'ingegnere Morandi che funge da collegamento tra l'area di Capodimonte e il resto della città è sottoposta a prove che consistono in uno stress indotto da sei camion carichi di materiale che sostano sulle campate per assaggiarne la resistenza. Dati che finiranno nel dossier sul ponte che a detta dei tecnici e degli amministratori se saranno positivi non vi sarà alcun tipo di problema per la riapertura. Ricordiamo che le prime risultanze degli esperti avevano sconsigliato la riapertura totale del ponte in tutti e due i sensi di marcia per i mezzi più pesanti. Inizia la campagna di Alilacco, associazioni anti-usura ed anti-racket per sensibilizzare l'opinione pubblica su importanti temi. Il presidente Frosi parte da dati empirici. Il 35% dei commercianti del capoluogo paga il pizzo e l'edilizia non è esclusa. Almeno il 35% dei commercianti di Benevento paga il pizzo. Il 40% ha avuto richieste estorsive, mentre nel 2018 la percentuale delle denunce rasenta lo 0%. E questa è la fotografia del Zagno in base alle indagini condotte dall'associazione anti-usura e anti-racket Alilacco che ha presentato una campagna di sensibilizzazione sul tema. Ad illustrarla è stato il presidente di Alilacco, Amleto Frosi. Il Zagno è un territorio vessato dalla criminalità anche casertana. Un commerciante su tre ha avuto a che fare con l'usura. Si paga mensilmente, ma vengono subite anche estorsioni una tantum. Frosi ha anche preannunciato una nuova campagna volta a promuovere la denuncia da parte di imprenditori e titolari di attività commerciali del Zagno e far conoscere gli strumenti normativi ed economici che lo Stato mette a disposizione contro usura ed estorsione. L'iniziativa che vede anche l'istituzione del numero verde per rompere il silenzio e la paura della denuncia 800-406-600 partirà lunedì prossimo con manifesti e camper su Benevento, Teresa Terme, Montesarchio e Sant'Agata dei Goti. Conoscere gli ambiti operativi della prevenzione e della repressione dei reati è il tema della due giorni organizzata dall'Iceo Scientifico Rummo in collaborazione con la Questura di Benevento. Un progetto formativo che ha visto gli studenti confrontarsi con gli uomini della squadra mobile, della squadra amministrativa, della polizia scientifica, della polizia stradale e della postale per conoscere meglio le attività che quotidianamente vengono svolte per assicurare la sicurezza dei cittadini. La vostra iniziativa, ha detto il questore Giuseppe Bellassai, dimostra che il percorso all'interno delle scuole iniziato da tempo è la strada giusta per sensibilizzare alla cultura della legalità. È fondamentale che tra i cittadini e la nostra istituzione si rafforzi un clima di cooperazione e di fiducia. Inaugurato a Napoli dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza offline, la vita oltre lo schermo, progetto itinerante per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo. 11 appuntamenti percorreranno l'Italia in una serie di tappe. Sentiamo. A Napoli la giornata inaugurale del progetto nazionale offline, la vita oltre lo schermo, che ha scelto il capologo campano per far partire la campagna che toccherà altre 10 città italiane. Promosso dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, è stato presentato nella sala dei baroni del maschio angioino, dalla garante nazionale Filomen Albano, e consiste in un progetto itinerante per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo. L'obiettivo dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è spingere sempre di più i ragazzi a parlare, a condividere il loro vissuto. Il bullismo è sempre esistito, adesso attraverso la rete il fenomeno diventa più diffusivo e se possibile ancora più pericoloso nelle forme del cyberbullismo. Ecco perché è importante incentivare i ragazzi a non rimanere in silenzio, sia i ragazzi vittime, sia i ragazzi testimoni e anche i bulli, rappresentare che di fronte non c'è uno schermo, ma ci sono delle persone, esattamente come lui. È importante maturare la consapevolezza dell'esistenza dell'altro. Le prossime tappe saranno Forlì, Perugia, Como, Caltanissetta, Pordenone, Aosta, Verona, Cagliari, Pescara e Roma. Nel corso di ciascun evento destinato agli studenti degli istituti superiori viene proiettato il docufilm 12.2 con la partecipazione di Luca Pagliari, giornalista e storyteller basato sulla vera storia di Alice, vittima per tre anni di vestazioni e maldicenze. Un bus con bimbi in gita è stato bloccato a Benevento dalla polizia stradale. L'autista aveva il tasso alcolemico superiore alla norma. Gli agenti della polizia stradale di Benevento hanno bloccato un bus che trasportava bambini delle scuole elementari della provincia in gita in città. I poliziotti hanno scoperto che l'autista aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato è scattato il ritiro della patente. Il mezzo è stato fermato in attesa che la ditta che si occupava del trasporto provvedesse alla sostituzione con un altro autista. Se per gli automobilisti sono prescritti limiti di tasso alcolemico da non superare prima di mettersi in viaggio, per gli autisti professionali, ovvero coloro che trasportano persone occose e veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, la legge vigente prescrive il divieto assoluto di assumere questo genere di bevande prima della guida. Il tasso alcolemico deve essere pari a zero, così come anche per i neopatentati o chi ha età inferiore a 21 anni. La notizia di Benevento è rimbalzata subito su Facebook ed altri social, scatenando un coro di commenti. La polizia stradale sta conducendo accertamenti, mentre non è escluso che la società prenda provvedimenti nei confronti dell'autista. Una bambina di 12 anni è stata azzannata dal suo Rottweiler accaduto a San Potito Ultra nel giardino di casa. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal padre e trasportata all'ospedale Moscati di Avellino. Fortunatamente non corre pericolo di vita. Ha riportato ferite al volto e alle braccia, diversi punti di sutura che le sono stati applicati. Per la 12enne è stato disposto il ricovero nel reparto di pediatria del nosocomio erpino per effettuare una serie di accertamenti. Ristretto ai domiciliari è stato scoperto con la droga in casa. In cella è finito un 52enne di Avellino. Quando sono arrivati i carabinieri pensava al solito controllo. Poi si è visto piombare nell'appartamento anche i cani delle unità cinofile. Il fiuto del pastore tedesco Oli ha permesso di scoprire all'interno dell'abitazione vari pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi. in parte occultati in una fioriera e il resto dentro due cassette di derivazione elettrica chiuse dai coperchi con gli interruttori. Rivenuto anche un bilancino di precisione, per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere di Bellizzi Irpino. Terra dei fuochi, operazioni a Napoli, Melito, Mugnano e Sant'Antimo. Officine e autolavaggi al setaggio. Ci sono anche sancioni amministrative per circa 54 mila euro. Fra le conseguenze dei controlli disposti da Gerlando Iorio, incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, che ha ordinato operazioni interforze di controllo straordinario del territorio dei comuni di Melito di Napoli, Casoria, Marano di Napoli, Villaricca e Napoli. Compressivamente sono stati controllati 15 esercizi commerciali ed imprenditoriali, operanti nei settori meccanico, dell'imballaggio e dello stoccaggio e dello smaltimento rifiuti. 11 sono stati sequestrati. I controlli hanno interessato 41 persone, 17 denunciate all'autorità giudiziaria e 8 sanzionate amministrativamente e 29 veicoli, 13 sottoposti a sequestro. In particolare a Melito di Napoli è stata sequestrata un'officina meccanica di circa 350 metri quadrati ed un locale annesso di circa 1000 metri quadrati, dove venivano depositati in modo incontrollato rifiuti pericolosi e materiale di scarto, privo di qualsivoglia tracciabilità, nonché tre autocarrozzerie prive delle previste autorizzazioni amministrative e sanitarie. Sono stati anche sequestrati perché abusivi un'autofficina ed un laboratorio di riparazione elettrodomestici per irregolarità nello stoccaggio e smaltimento rifiuti, nonché una ditta specializzata nella produzione e fornitura di imballaggi industriali di circa 370 metri quadrati, con all'interno macchinari tipografici e numerosi imballaggi contenenti rifiuti pericolosi provenienti dalle lavorazioni da smaltire illecitamente. Durante i controlli sono state riscontrate numerose violazioni alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e il titolare è stato denunciato alla magistratura. Nell'adempimento delle attività in campo 44 equipaggi per un totale di 97 unità appartenenti al raggruppamento campania dell'esercito, alla questura di Napoli, ai carabinieri della stazione di Melito, ai carabinieri forestali della stazione di Napoli, alla compagnia della guardia di finanza di Giuliano, al reparto operativo aereo navale della guardia di finanza di Napoli, alla polizia metropolitana, alla polizia municipale e ambientale del capoluogo, alla polizia municipale di Melito, alle polizie locali, dei comuni interessati, nonché personale dell'ARPAC della città capoluogo partenopea. Militari appartenenti alla stazione carabinieri forestale di Marcianise, congiuntamente al personale specializzato dell'ARPAC del Dipartimento Provinciale di Caserta, hanno effettuato accertamenti presso due officine meccaniche ubicate in agro del comune di Marcianise al fine di verificare il rispetto della normativa ambientale. Nel corso dei controlli è emerso che nella prima delle due attività è stato rinvenuto un deposito incontrollato del volume di circa 20 metri cubi di pneumatici fuori uso, che non potevano essere prodotti dalla specifica attività autorizzata, nonché veniva esercitata attività di saldatura senza la prescritta autorizzazione nei riguardi delle emissioni in atmosfera. Nella seconda attività di officina sottoposta a controllo è stato rinvenuto uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi, costituiti da emulsioni liquide, inoltre veniva esercitata in loco attività di saldatura. Le due attività artigianali e titolari sono stati deferiti. L'ennesima telefonata da una cabina di Afragola ritarda l'apertura degli uffici al Tribunale di Nocera Inferiore. Un falso allarme bomba. La sede del penale, del giudice di pace e del settore civile sono state interdette fino alle nove circa, quando una seconda telefonata avrebbe poi riferito che l'allarme segnalato qualche ora prima risultava falso. L'ultimo caso mesi fa, dopo che un addetto notò una borsa incustodita in un'aula nella sezione penale. Si scoprì poi che apparteneva ad un giudice che l'aveva dimenticata lì dopo aver terminato la giornata di udienze. Casertano insulta la moglie in dialetto troppo stretto. Il Tribunale di Belluno costretto a chiamare un interprete. Sentiamo. Chi le avrebbe detto che la varietà di dialetti tra Salerno, Napoli e Caserta è praticamente pari ai gruppi dialettali cinesi. Se lo sono chiesti i basiti, i giudici del Tribunale collegiale di Belluno, che dopo quasi tre mesi non riescono a trovare un interprete di Casertano stretto. Il processo per maltrattamenti e violenza sessuale alla compagna da parte di un marito casertano residente a Belluno è bloccato da mesi. D'altra parte, la missione sembrerebbe quasi impossibile trovare qualcuno nato in provincia di Caserta all'ombra delle Dolomiti. L'interprete dovrà trascrivere 26 ore di registrazioni di insulti, aggressioni accompagnate da frasi idiomatiche e tante parolacce. Erano tutte indirizzate alla propria compagna dall'imputato casertano di 37 anni. Da mesi il processo è al palo, uno spiraio in queste ore. Il nuovo arrivo al comando dei carabinieri di Belluno di un appuntato di Caserta. Così, appena si è avuto notizia della possibilità, c'è stata la sospensione di qualche ora. In tempo reale il carabinieri appena arrivato è stato portato in aula, ha giurato di fronte ai giudici e si è preso 90 giorni per tradurre le registrazioni. Spiagge sicure in Campania arrivano fondi a 14 comuni per il contrasto all'abusivismo e per la tutela dei commercianti onesti. Campania, 14 comuni, beneficeranno dei fondi Spiagge Sicure 2019. Ciascuno di loro riceverà 42 mila euro che potranno essere investiti per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale per il pagamento degli straordinari, per l'acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo è contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione durante il periodo di massima affluenza turistica. In particolare in Campania saranno coinvolti i comuni di Capri, Casa Miciola Terme, L'Acquameno, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Vigoequense in provincia di Napoli, Amalfi, Escea, Centola, Maiori, Pisciotta, Positano e Ravello in provincia di Salerno. Il contrasto all'abusivismo è un doveroso impegno a tutela dei commercianti onesti, mentre la stretta sulla contraffazione serve anche per tutelare la salute dei cittadini, dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che continua. Il finanziamento di Spiagge Sicure è l'ennesimo segnale di attenzione alle comunità locali e alla loro sicurezza. Il ministro sta scrivendo a tutti i cento sindaci coinvolti nel progetto Spiagge Sicure. Scongiurato il predissesso per il comune di Faicchio, sindaco soddisfatto della decisione della Corte dei Conti. Il servizio. Con un post su Facebook, il sindaco Nino Lombardi ha descritto oggi come un giorno bellissimo per il comune di Faicchio. Il primo cittadino si riferisce alla deliberazione da parte della sezione regionale della Corte dei Conti del raggiungimento degli obiettivi con l'approvazione del piano di riequilibrio che fa uscire definitivamente il comune di Faicchio dal predissesto. L'ente retto da Nino Lombardi, parola della fascia tricolore, è l'unico comune della regione Campania che ha raggiunto questo obiettivo, ripianando così l'esposizione debitoria nei cinque anni del piano. Nessun dubbio dunque sull'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Il mio grazie va all'amministrazione comunale, maggioranza e minoranza, per aver deliberato all'unanimità i bilanci, commenta soddisfatto il sindaco. A tutti i dipendenti per la collaborazione che hanno dato e a tutta la comunità per la vicinanza dimostrata in questi cinque anni. Possiamo guardare adesso un orizzonte di luce, conclude Lombardi. Il nostro comune di Faicchio rimane sempre meraviglioso e straordinario. Sport, calcio, Serie A è una settimana un po' particolare e più per la gente che per noi. Noi affrontiamo ogni avversario con la fame di vincere e prendere i tre punti, ma sappiamo che per i tifosi è una gara speciale. Cercheremo di fare una grande partita e di dare soddisfazione alla gente che è sempre accanto a noi. Il centrocampista del Napoli, Allan, descrive le sue sensazioni a pochi giorni dalla sfida del San Paolo contro i campioni d'Italia. Noi vogliamo chiudere il campionato e mostrare la nostra forza. Il Napoli vuol riaprire il campionato. Sarà una grande partita. Chiellini anticipa i temi dello scontro al vertice di domenica tra i bianconeri e gli azzurri, separati da 13 punti in classifica. Serie B, il Benevento scende di nuovo in campo lunedì sera alle ore 21 allarmando picchi di Livorno contro la formazione di Breda. La partita sarà diretta da Daniele Minelli di Varese. Minelli era il direttore di gara del match del tombolato di Cittadella. Il questore di Salerno ha emesso tre daspo a carico di altrettanti tifosi della salernitana, responsabili del lancio di bombe carta allo stadio Arechi di Salerno. Il provvedimento che vieta l'accesso alle manifestazioni sportive ha la durata di tre anni per uno dei sostenitori e di due anni per gli altri due. Le indagini effettuate dagli agenti della Polizia di Stato, della Digos e della Questura di Salerno hanno permesso di individuare e identificare i responsabili. Il lancio di bombe carta è avvenuto durante l'incontro di calcio salernitana Benevento disputato lo scorso 8 febbraio, ma gli accertamenti effettuati dagli investigatori hanno permesso di appurare che uno dei tre soggetti identificati ha acceso e lanciato bombe carta anche durante le gare casalinghe disputate dalla salernitana contro foggia e lecce. Ed era questa l'ultima notizia ora vi lascio alle precedenti del tempo e con il resto della nostra programmazione grazie dell'attenzione. Arrivederci. Ben tornati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 1 marzo. L'alta pressione che da giorni sta regalando all'Italia un clima primaverile perde la sua potenza e il tempo comincia a mutare su alcune regioni con l'arrivo di precipitazioni. Ma ecco il dettaglio preparato come sempre da ilmeteo.it. Al nord presenza di foschie mattutine in pianura su Lombardia ed Emilia mentre il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso su tutte le altre regioni. Al centro nuvolosità in aumento su gran parte dei settori con cielo a tratti anche coperto sul Lazio. Possibili delle precipitazioni solamente sulle marche a carattere sparso. Da segnalare qualche foschia mattutina sulla Toscana. Al sud copertura in aumento sulla campania in genere lungo le coste ma senza precipitazioni associate. Sul resto dei settori il cielo sarà più libero da nubi dunque con ampio soleggiamento. Venti di maestrale sui bacini occidentali, meridionali e altrove. Vediamo infine le temperature previste. I valori notturni saranno compresi tra lo 0 e gli 11 gradi un po' su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo invece fino a 18 gradi al nord e anche al sud fino a 16 gradi invece al centro.